io sono riccardo bardoni sono il presidente della 31 settembre circolarci siamo qui in questa bella mattinata con susana dal porto abbiamo fatto una donazione alla biblioteca di un libro molto interessante e sarà una delle tante donazioni che avrete e comunque attraverso le nostre pagine i nostri canali daremo spazio alla biblioteca ti ringrazio grazie buona giornata buona giornata ciao arrivederci